Dalle tecnologie aerospaziali alla progettazione, la ricerca informatica, la produzione di birra, costruzione di serbatoi criogenici, macchinari innovativi per il caffè senza dimenticare il turismo. 8 aziende per creare 73 nuovi posti di lavoro. Il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha firmato presso l'interporto di Guasticce 8 protocolli di insediamento, piani di investimento per l'innovazione e l'ampliamento produttivo di 8 aziende con sede a Livorno, Rosignano e Colle Salvetti. Protocolli che prevedono investimenti complessivi per 12 milioni e 600 mila euro, di cui 5 milioni e 300 mila finanziati con fondi regionali. Tutto questo produrrà nell'arco di due anni un'occupazione aggiuntiva di circa 75 addetti, una cosa importante per riaccendere anche una presenza industriale in questa realtà. Oltre gli investimenti che stiamo facendo sul porto e sull'infrastruttura. La regione con questi protocolli ha voluto supportare quelle aziende che vogliono fare investimenti per consolidare il proprio apparato produttivo. L'assessore regionale al lavoro Cristina Grieco, intervenendo all'iniziativa, ha parlato della necessità di realizzare un'alleanza tra la filiera formativa e quella produttiva. Sono previste diverse decine di assunzioni e quindi ci sarà bisogno probabilmente di esplicitare il fabbisogno formativo, cioè le aziende ci devono dire di che tipo di competenze hanno bisogno perché noi abbiamo in questo momento approntati tutti gli strumenti necessari per dare risposte anche in tempi molto brevi e ugualmente le stesse aziende devono passare dai nostri servizi per il lavoro. Le imprese vincitrici avranno due anni di tempo per realizzare i loro progetti e nel caso in cui non concludano entro questo termine potranno richiedere sei mesi di proroga.